L'incidente nel pomeriggio di martedì 21 gennaio intorno alle 15 sulla strada provinciale 39 alle grange di fronte. Una Chrysler Voyager è uscita di strada finendo nel fosso. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, le ambulanze della Croce Verde di Ciriè e della Croce Rossa di San Francesco al Campo, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 66, i carabinieri del nucleo radiomobile di Venere Reale e la polizia locale Unione Collinare. L'uomo, un 81enne di Rivara, è stato estratto dalle lamiere della vettura e trasportato all'ospedale di Ciriè. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Grazie mille. Grazie a tutti.